È una scena inconsueta, quella che si è palesata ieri davanti agli occhi di chi ha raggiunto il Museo Vittoria Colonna di Pescara. Inconsueta non tanto per il numero di persone presenti, da tutto esaurito, quanto per il fatto che aggremire la sala fino all'ultimo minuto utile, e anche di più, è stato un tema complesso e difficile, come quello della violenza sulle donne. Merito di chi ha avuto l'idea di parlarne, il Rotary Club Pescara Nord, e degli ospiti chiamati a farlo, adeguati e chiari, sin dal primo intervento, quello del generale Luciano Garofano. Ritengo che bisogna fare qualche cosa in più, nel senso che la prova scientifica arriva a valle, arriva tardi, quando non c'è più niente da fare, e su questo bisogna molto migliorare, soprattutto in termini di primo intervento. Se da una parte noi esperti abbiamo ricevuto dalla scienza delle possibilità incredibili, che erano impensabili fino a qualche anno fa, rimane ancora troppo superficiale spesso il primo intervento. Mi riferisco alla prima battuglia, mi riferisco al 118, ai sanitari, cioè a coloro che non per colpa specifica, ma non hanno ricevuto una formazione che integri quella assistenziale sanitaria e possa cristallizzare tutte quelle prove e conservare tutte quelle tracce e quei reperti che poi noi esperti cerchiamo di utilizzare per dare una risposta. Anche se è un argomento di cui se ne parla da tanto tempo, è sempre purtroppo di attualità, nonostante le trasmissioni siano piene di racconti di queste povere persone che sono vittime di violenza, però continuano i croni che sono piene ogni giorno di questi episodi. Quindi abbiamo voluto affrontare questo triste tema e soprattutto perché noi vogliamo provare a trovare una soluzione affinché queste donne vittime di violenza trovino un riparo, un centro di accoglienza, un centro di ascolto. Il lungo pomeriggio si è concluso con l'intervento di Jessica Notaro, la giovane donna che venne sfregiata con l'acido dall'ex compagno e che ha scelto di dare visibilità al suo dramma, di raccontare la sua storia per aiutare altre donne. È un modo per me per esorcizzare la cosa, nel senso che parlarne e riparlarne in continuazione mi aiuta a superare il trauma e sicuramente dà un senso a quello che è successo, nel senso che nel momento in cui metto a disposizione quella che è la mia esperienza per dare una mano agli altri, allora riesco anche a dare un senso a tutto quello che è successo. Che cosa manca? Nel momento in cui si parla di adottare una misura cautelare come può essere l'ammonimento piuttosto che la distanza, i famosi 500 metri che diedero a Tavares, nel momento in cui non si ha l'uso per esempio di un braccialetto elettronico a disposizione per verificare la distanza tra i due vittime stalker, non ha senso parlare di misura cautelare perché non è sicura, non è controllata, non è adeguata e quindi poi succedono i danni.